Il commercio a Teramo è decisamente fuori forma. Un anno di lavori sul corso principale non ancora conclusi, il terremoto che ha svuotato la città a favore della costa e una crisi strutturale complessiva hanno messo in ginocchio l'economia cittadina teramana. Il Natale ha portato solo un lieve sollievo ai commercianti che sperano però di recuperare con i saldi. Per i saldi che si preannuncia. Cerchiamo di recuperare forse quello che si è perso perché molte persone aspettano anche un po' i saldi. Partiranno domani quindi neve permettendo perché abbiamo anche l'incogna e tanto quest'anno non ci siamo fatti mancare nulla. Lei dice che non è tanto il problema del commercio quanto di questa città? Sì, qui devo dire che dovrebbero essere chiamati in molti intorno a un tavolo per parlare di questa città ma soprattutto per cercare di risollevare le sorti di questa città perché qui bisogna davvero capire che Teramo in questo momento sta soffrendo e sta soffrendo davvero tanto. È brutto ammetterlo ma sembra ormai esserci abituati ad ascoltare l'elenco di cose che proprio non funzionano nel commercio teramano. Ma poi ecco che arrivano segnali che sono un pugno allo stomaco. Un prestigioso negozio di Teramo, la gioielleria allo scrigno, dopo 55 anni di attività chiuderà per trasferirsi a Pescara. Segnali che fanno capire che si sta toccando il fondo. Dopo 55 anni lei decide di andare via da questa città? Io non ho deciso di andare via, non abbandonerei Teramo per nessun motivo e che purtroppo la protezione civile ha reso inagibile questo locale, tutto il palazzo, tutto il grado è, quindi il rischio crollo e sono costretto ad uscire nel più breve tempo possibile. Il commercio soffre già da qualche tempo, un anno di lavori del corso, insomma hanno inciso anche? Il commercio ormai a Teramo soffre da dieci anni, non da un anno, non da due. Sicuramente i lavori del corso hanno inciso gravemente, sfregiando la città in una maniera indelebile. Però adesso non farei la solita polemica sul problema dei lavori. La città di Teramo soffre da dieci anni a questa parte per una serie di mancanze strutturali, organizzative, politiche. Ma non è che poi rimane per sempre a Pescara? Chi lo sa, faccio l'esperienza di Pescara e mi auguro di rimanere Teramano per tutta la vita.